Ciao a tutti ragazzi, riaccoci nuovamente su Antstone Ovviamente immaginate che sto in promozione per il 14 Ovviamente sono in promozione per il 17, in promozione per il 16 Adesso si va al 14 Non conosco molta gente che è stata sotto al 14 Anzi sinceramente non conosco nessuno che è stato sotto al 14 Anzi se qualcuno è stato sotto al 14 Mi scrivesse che facciamo qualche sfida, qualche duellino Così almeno faccio un po' di allenamento con chi è bravo a giocare Ok, già è una contro tralla Lo sciamano lo becco da parecchio ragazzi Lo sciamano sarà quello che mi farà al culo stavolta, sono sicuro Ho perso già Allora, palla di fuoco, troppe palla di fuoco E questa me la tengo, la tizia violacea Eh, ho sbagliato, non c'è niente da giocare Ho perso Allora, se beccamo Ma sapete che mi sa che è meglio Infatti mi devo imparare a buttare via tutto, tutte le carte, tutte Se non pesco quello che mi serve butto via tutto Perché tanto devo startare sempre con le stesse Vedi, queste carte a me non servono È inutile che sto qui e aspettare le carte giuste Cioè a sto punto le butto via tutte e aspetto che me ne arrivano altre Certo, me la rischio Però, cioè, è sempre meglio di stare così senza fare niente Ecco, però tolco boldo ritardato Chissà che cazzo mi servirà Vabbè, gli farò un po' di danno all'eroe Nel turno prendere candela Ok Vediamo un po' che succede a sto turno Vediamo, tocca a lui Adesso giocherà qualcosa di grosso e cattivo Essendo uno sciamano Ecco, appunto Sovraccarico due mana Pratico nel prossimo turno non avrà mana Però ho giocato questi due lupi del cazzo Che mi shatteranno Brutalmente Precisiamo Ok, sta a me Cosa faccio? Devo uccidergli quei lupi del cazzo Oh Devo inventare qualcosa Gli devo uccidere subito Gli devo levare dalle palle Ok, questo Gli ammazzo subito Gioco lui Tengo il coboldo Gioco lui E il coboldo passa Perché adesso lui mi attaccherà Mi farà fuori il coboldo E io gli ammazzerò di paio Vabbè, vabbè, vediamo un po' come si evolve Io penso di prevedere Ma alla fine non prevedo un bel cazzo niente Perché C'ho anche le cuffie rotte, ragazzi Non riesco a fare niente Con le cuffie rotte Non sento dal sinistro Ho l'orecchio sinistro Che non funziona praticamente Che mi sento tipo mezzo sordo Guarda, appunto Nice Carta immune alle magie Ci mancava solo quella Ok, allora penso che farà il contrario No, non farà Allora, con questo mi attacca questo E con questo mi attacca questo Sicuro, guarda Allora, non può attaccare a me Con questo e con questo L'eroe Dai, fammi vedere che fai Lui ha cinque carte Io quattro Lui ha tre mostri in gioco Perché lui ha più mostri? Che so, stronzo io Che problemi c'ho? Io me lo spiegavo Non capisco La pecora Ok, questa carta può cambiare Le situazioni in gioco Gli peccoro questo col protezione? E gli ammazzo quello Immune? Oh mio Dio quanto mi tenta questa cosa Oh mio Dio quanto mi tenta Lo faccio? Però poi si trova due Due, due, uno, uno Eh, perché me frega Ah, però mi uccide lo stesso con gli uno, uno Però perde gli uno, uno Però Ma sì, ma levamogli dalle palle tutto Via, via Pulizia di primavera Pulizia di primavera È pulito tutto Pulizia di primavera Ok, vediamo un po' come chi giocherà Pulizia Io non ho mostri Ho perso Ho tipo, ho perso brutalmente Volevo dire È persa adesso Non posso vincere Non ho mostri da giocare Nemmeno lui a quanto pare Ok, allora noi gli diamo giù Pesante di elementale Che gli congelerò E gli farò il bonus Se è già congelato Infine c'è 4 danni E questa è la combo ragazzi Elementale Ice Lens È come su WoW Fa la stessa identica cosa ragazzi Elementale su WoW Fruzzava la gente E tirava un Ice Lens Da 3k nella faccia Mi ricordo il vecchio TBC Mamma mia Quando facevo Quanto facevo Ice Lens TBC? C'avevo 10.000 HP Facevo tipo 1.000 HP 1.000 HP Una roba del genere Comunque Ecco Sta per giocare qualcosa Di brutto e malvagio Sul mio elementale Ecco Bello Nice Ah sul mio eroe l'ha fatto Bello Quello gliel'ammazzo subito Sei fuori Sei proprio eliminato tu Ok Ok È il momento di giocare Cose tranquillamente Allora Il coso grosso Gliel'ammazzo Con la palla di fuoco O lo pecoro Lo pecoro Però rimane ancora in vita Se lo pecoro eh Gli devo fare danno Giochiamo la maghetta? No Poi non ho mana Per fare le spelle La maghetta non va bene ora Dopo la maghetta Ok Allora Gli togliamo 6 danno Così ci teniamo le pecore Per quando lanciamo la maghetta Facciamo fuori questo E congelamolo Ok Finito Fino qua La tattica Può proseguire Ovviamente lui ha tante carte in mano Non le sta giocando Perché sta cercando Un momento giusto di farlo Io lo so Vole farmi sprecare tutte le carte Eh esatto Appunto Se le sta tenendo Non l'aveva visto come una minaccia Quindi se le è tenute a mano Avete visto? Però poi ha detto Cazzo Quell'unità potrebbe essere una minaccia E alla fine ha giocato la carta speciale Pezzo di 0 E adesso ti gioco la maghetta E ti faccio la combo del danno Gliela faccio? No Gli faccio il pesca carte Così evo conservitore E pesco una carta Pesco due carte Vabbè pesco due carte Sì Buttato una carta Oh Questo è utile Anche questa Ok al prossimo turno Vi faccio la combo sull'eroe Vai state pezzo di 0 Fammi vedere cosa giocherai Adesso giocherò un mostro 27.000 Ah no Ok Aspettavo peggio Infatti la mia maga sopravvive L'importante è che sopravvive la maga Sento notare che mi si è tipo storto lo schermo Non vorrei aver rotto qualcosa Cos'è? Questa è brutta Questa che ne dite? La gioco? Lo faccio piangere? Lo devo far piangere? O aspetto il prossimo turno? E gioco rantola di morte Maghezza Aspettiamo il prossimo Aspettiamo il prossimo Rompiamo un po' le palle Allora questa facciamo diventare una bella pecora Gli facciamo una combo sull'eroe La faccio? O me la tengo ancora? Mi sa che è meglio che me la tengo eh Me la tengo Me la tengo Teniamocela Teniamocela La combo ragazzi Può sempre servire Al prossimo io gioco grullo dritto nella faccia Guardate che bello Cioè sta carta è Non è che sia molto in combo con il mio mazzo Anzi non c'entra proprio niente Ma niente 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 Però È una leggendaria La tengo solo per far figo praticamente Così quando la gioco faccio Ehi sono figo E vabbè Inflige due danni E un personaggio lo congela Ma è uscita la machetta Stronzo Stronzo Ok no Mi spiace il gioco questa Raga cambio di programma Quando lanci una magia Pesco una carta Mi faccio la combo Devo decidere fra combo E E combo O pecora Con la pecora Tolgo il pecora lui Però può sempre attaccare Però uso una sola magia Invece con queste due Uso due magie E in più pesco No Pesco due carte Magari pesco Eh E dai E dai Dammi un grande abbraccio E' bello questo ragazzi L'ognomo contaminato Perché tipo impestava Va a abbracciare la gente Per impestare anche loro Che cosa deliste Io ho fatto male però Mi sa che la sentite un po' Ste botte in faccia Cos'è quel coso Furia del vento Carica Ma che stai a dire Ok sono senza Parole Un HP Sono rimasto Cioè questo tizio Mi ha lasciato Un HP Un fottuto HP Ti devo eliminare Tutto ciò che è minaccioso C'ho un HP Raga Appena mi hit Sono morto Oh mio dio Che carta leggendaria Ha giocato quello Ah la Chi Guarda che cazzo Di roba Poteva Ma Vedi Potevo farcela Potevo Ma ha giocato Quella carta Impossibile Avete visto che Carta Furia del vento Provocazione Scudo divino E l'ha potenziata Due volte l'attacco E diventa tipo Ha fatto 18 di danno Vabbè Raga Per questi video è tutto Ciao a tutti